Eccoci qui di nuovo a Gosaldo per il periodico aggiornamento sullo stato dei lavori della centralina del NIS. Come vedete i lavori stanno andando avanti in maniera spedita. Già i primi lavori definitivi possono essere notati qua davanti dove vediamo è stato deviato con questo tubo e con quest'opera che è stata incanalata parte del tratto del fiume è stato deviato definitivamente il corso del fiume cancellando l'argine esistente come vedete che passava qui e qui è terra di passaggio per ruste e scavatori. Questa è l'opera che sta già conducendo l'azienda Alpenbau. Chiaramente che è la dita che si occuperà di fare i lavori per la valsabia SPA che sarà quella che compierà i lavori. Questa è la trivella che hanno portato qui sul posto e questi eccoli lì. Questi sono i lavori che stanno facendo i famosi lavori che non dovrebbero arricare alcun disturbo al territorio. Possiamo vederli qui davanti. Questi sono gli operai. Questa è una ruspa che costantemente lavora su quello che era l'argine del fiume. Grazie. Grazie.